buongiorno guys bentornati sul mio canale oggi è domenica 26 febbraio oggi vi porto con me al festival delle luci di bergamo in realtà abbiamo scoperto di questa cosa in super ritardo perché oggi è l'ultimo giorno io intanto sono qui devo devo vestirmi sono le 4 e 20 mi vesto devo lavarmi di resto e noi ci vediamo tra poco sempre qui eccoci qua sono pronto mi sono sistemato la faccia che è un disastro e l'outfit è questo ovviamente metterò qualcosa sopra perché let's go e siamo a bergamo ce l'abbiamo fatta iniziano già vedersi delle lucine ce l'abbiamo fatta che corsa pronti sì che fatica davvero ok questo sarebbe ristorante scusate io il fiatone ma abbiamo fatto una corsa perché stiamo in tardissimo di tipo mezz'ora dovevamo essere le 7 un quarto qui sono le 7 45 io sono morto carino come posto sembrava impossibile ma ce l'abbiamo fatta ma non fa niente ci siamo seduti questo è importante questo è l'importante e dopo un'ora e metta beh buon appetito buon appetito qua davanti nel piccolo lì comunque sta piovendo ciao 20 giorni io col turbante e io con l'ombrello azzurro e per te limona attenti che qua si vuole penso che a momento c'è più ad un'idea è quello che qui è quello di quando siamo andati in germania si è lui tra l'altro ho il masto questo ombrello e il copriombrello di un altro colore perché ho perso l'ombrello di un altro colore perché ho perso l'ombrello di un copriombrello io da quell'epoca penso di averne persi 180 vabbè io ho tipo l'ombrello blu scuro e il copriombrello blu chiaro ma va bene lo stesso ma lì senta vede qualche luce eh sì sono le cose che ho anche belle e io con l'ombrello copro tutta la luce ma mi sembra vede uno ma mi sembra un doppio vinto sciogliamo il nostro doppio vinto ma bello giorgio dove sei? mi sembra un astuto o più meno? bello no volevo fare una foto ma non si vedrà mai bello bello ma che belle mi sospende io scusate si quasi ma carine belle ma ciao raga ma buon giorno ma hello ma buon giorno buon giorno benvenuti in questa puntata in Antartide in Antartide praticamente si vuole che si gela tipo sono tornati d'inverno a freddo inoltrato totale dopo due giorni di estate di primavera ma sono giganti comunque io avevo perso e non mi trovavo più carino ah ma adesso che ha smesso di più virginale posso ne mettermi gli occhiali ma ragazzi è marzo ah ma ah ma cioè vabbè ragazzi è marzo non sei se lì qui è marzo non è una cioccolata falla sinceramente che fa un freddo boi bello qua però un po' natalizio si fa un pochino che bello qua beh noi ci sediamo qua fuori vero in mezzo sul bagnato che bello però fa un freddo che ci sediamo proprio dentro ieri sì 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 dentro la stracciatella e crema la mariana ci siamo e dopo un gelato di 182 kg e 2000 calorie eccoci qua eccoci qua ancora a cercare sulla mappa 29 luci esatto pronti a vedere tutte le installazioni tra l'altro è l'ultimo giorno perché beh abbiamo 17-26 febbraio oggi è il 26 febbraio e noi arriviamo in tempo qui c'è qualche luce ma che era così qualche luce è un'altra installazione ma è bravo che si chiama l'altra sì bisogna andare tipo in mezzo alla piazza credo mi sembra un po' fioca figli disegnati va dai è carino però no sì no è bello però io non lo fa schifo no vabbè ma c'era il pulcino anche prima ma prima c'era delle foto è più bello ciao mi fai niente strabianchi ma c'è anche il campanile sì va bene illuminato qui un po' no ma qui c'è la luce qua c'è la luce divina la luce del vino c'è la luce da fuori io cieco io cieco ma nevica io giù morto allora non si vede ma sta nevicando no un po' si vede ma il po' nevica sottilmente sta nevicando molto finemente comunque adoro Bergamo c'è due c'è due qua va bene è molto suggestivo questo posto c'è questo punto vabbè sì però carino no fa niente ma non fa niente bel panorama non è basso davvero sì comunque è bella cosa non è esausti qui si vede un po' di più qua 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 ma che bello ma che bello c'è un po' di più bimbi di due anni letteralmente io sono lavato non ci si vede non ci si vede e talmente anche qua pieno pieno io pieno che bello che pace ma come vuoi oddio è diventata una posta in pieno in pieno no ma cazzo nel momento in cui diamo noi è un spento non sono le nostre vabbè mi si è bagnato il telefono fa schifissimo la fotocamera così io letteralmente fradicio ma vabbè ma vabbè io confermo che ero con voi comunque ma dai ma si apreggi tu sono io io basta lavato fradicio madonna c'era un gradino non l'ho visto Matteo io devo andare a nascondermi in questo momento bene noi ci vediamo a casa e buonasera buonanotte quasi siamo tornati dove è iniziato questo vlog e io sono tornato a casa sono le l'una e cinquantasette tardissimo io vado a letto perché non mi devo svegliare le sei e mezza niente vi ringrazio che avete guardato questo video vi ricordo che c'è sempre un video ogni tanto non sappiamo mai quando ma ma escono due tre quattro shorts a settimana sempre sul canale su tiktok e su instagram se volete seguirmi anche su lì vi lascio tutti i miei social in descrizione iscrivetevi al canale e attivate la campanella per eventuali altri contenuti e vi ringrazio e alla prossima su tiktok su tiktok su tiktok su tiktok su su tiktok Grazie.